fine qui in campagna abbiamo anche una vasta gamma di fiorame le fragoline ci sono rimaste pochissime piantine ma provvederemo e poi cresciuti in questa selva che la il ghibellin fuggiasco avrebbe denominato certamente così ci sono questi splendidi iris ma non sacudi da faridotto teneva senza è arrivato l'agricoltore grazie a dio che ce le abbiamo comunque vi volevo puntualizzare che è sì è vero che mi è come diventato zopo tuo babbo ha solo 80 anni ma vi assicuro che è meglio mio babbo zopo con tutti i suoi acciacchi e la voglia che ha di fare di tutti questi uomini vigorosi che non tenete gana devarino da manco di diventare sagadira potesti un'ergungia se sta crescendo una generazione che non ha voglia di fare niente poi mi vanno a parlare di tradizioni d'italia in crisi e ci credo per risollevare l'italia bisogna muoversi siete d'accordo